Non luogo a procedere quanto stabilito dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso, Teresina Pepe, nei confronti di un operatore di un centro di assistenza agricolo coinvolto nella maxindagine nazionale della Guardia di Finanza. Operazione Bonifica, questo è il nome. Iniziò sette anni fa e portò alla luce una serie di frodi comunitarie in agricoltura. Furono segnalate oltre 33.000 aziende agricole con blocco delle erogazioni dei premi PAC da parte della GEA. Il PAC è l'acronimo di Politica Agricola Comune, titolo collegato ad ogni singolo ettaro di terreno coltivato e di valore variabile a seconda del tipo di cultura praticata. Gli indagati e l'accusa per ottenere i contributi comunitari producevano falsi contratti di affitto o di comodato con persone del tutto ignare o che erano addirittura decedute. E scamotage necessario ad attribuire a tali realtà imprenditoriali la proprietà di centinaia di titoli PAC, titoli necessari per poter accedere ai finanziamenti europei. L'operatore del CA Molisano, che è rimasto coinvolto e ora è stato assolto, aveva il compito di aiutare i coltivatori nel disbrigo delle pratiche. L'uomo, come ha spiegato il suo avvocato difensore Fawzi Khalif Yannucci, aveva ricevuto e inoltrato i dati forniti dal produttore. Dunque la sua opera era limitata alla sola verifica della regolarità e conformità formale dei documenti e non anche all'esame della validità dell'atto e la veridicità dei dati riportati. Sulla base di tali considerazioni, ha continuato l'avvocato di Larino Yannucci, il GUP ha ritenuto di dichiarare il non luogo a procedere per l'operatore. Sarà invece processato il produttore agricolo che aveva richiesto i fondi.